Il terreno mio nonno e mamma era questo qua, e gli era sotto, c'era la vigna, c'era il vetro, e mi ricordo, ma era un ragazzino, che siccome dormeva anche qui lui, noi dormevamo lassù, lì avevamo la casetta, come la casetta di campagna, verso l'imbronino dopo mangiato, dove ci vediamo? Ci vediamo lì a Ruvati, c'era appunto a Ruvati, lì era tutto popolato, c'era pure il pupo, venivano pure da Cipatu, c'era la mamma, la nonna Veristere pure che sdormirava, era tutto popolato qua, c'era Maria, c'era Maria, c'era Maria, c'era Bancali, c'era Casadana, allora ci prendevamo, ci tornavamo verso l'imbronino dopo, e andavamo lì a Ruvati, perché lì si faceva, c'era l'orchestrina, c'era due chitarre, c'era, e si cantava, no? E questa è l'unica cosa che mi ricordo... Ma quando stavi più in campagna che a Pazzano Paese? Quando finivo la scuola, sì. Fino a? Fino a Cietà? Ma tra me 10 anni, 12 anni massimo, ma no, che poi quando ho finito la scuola elementare, poi stavo a Pazzano Paese. Ma prima abitava, c'era mia nonna, e mio padre mi mandava sempre qui, vai a tenere la compagnia alla nonna. Sì, ma venivano tutti qua, a Pazzano Paese c'era... Ma quindi c'era più gente, la gente stava più nelle campagne o più nel Paese? Ma fino a che anni? No, fino a ottobre, fino al periodo della vendetta. Ah, le... C'era solo che aveva poco conosciuto, Rosina, la moglie di Rocco, che stava sola, E stava qua sotto, no? E mi ricordo che facevamo, avevo, che c'erano i sorrisi, che andavano a fare cose, ma passavano di qua, a piedi, venivano a la Serra San Bruno, San Bruno, passavano di qua, e facevano questa strada, di qua di là, quando noi andavano a riace. E allora cosa succedeva? Che quando passavano a flotta, noi raccoglievamo l'uva, e ci mettevamo lì e la vendevamo. Ci vendeva l'uva, le olive, l'origano, quelli... E i fichi, i fichi secchi, no, no, secchi, c'era il verde puro. C'era l'altra c'era i fichi secchi che a Serra San Bruno non aveva. Oh, esatto, però questo è quanto, no? Allora si stava anche in quel periodo lì, in modo da evitare che gli rubassero anche l'uva, si faceva la guardia pure, capito? E quando c'è poco da mangiare, tutto fa bene, eh? Sì, ma in quel periodo, diciamo, gli anni 50-60, si abitavano in tutti i frattori, mi ricordo che dicevano che la domenica si tornava in presa per andare a me. Ok.